buongiorno amici buongiorno amiche eccoci qua con due adattatori simili ma diversi sono simili nella forma vedete assomigliano a una pennetta usb però il contenuto e il funzionamento è molto diverso perché lui funziona sugli iphone lui funziona sugli android lui si chiama b4 pro lui si chiama a4 pro entrambi sono corredati da istruzioni ben fatte dove si spiega anche come fare gli aggiornamenti firmware io l'ho fatto per il quest'adattatore android auto è stato semplice è qui è spiegato come farlo vediamo anche se è stato efficace poi c'è questa questo deplian che più che altro serve per perché vedete c'è l'email che indica la possibilità di avere un supporto via via email come vi dicevo a vederli sono uguali però poi il funzionamento chiaramente è diverso tanto vediamo lui vedete lo riconosciamo perché ha il simbolo android qui c'è il brand vedete ecco qua non ha pulsanti è abbastanza leggero questo è solo un unboxing adesso andrò in macchina e provero lui con il mio samsung con android 14 lui per ora lo salutiamo però intanto abbiamo visto l'unboxing ok ci vediamo in macchina eccoci qua siamo venuti in auto stiamo testando lui la versione android auto wireless vedete c'è una piccola lucina blu che si intravede ma veramente si vede poco eccolo qua la versione android c'è una lucina blu ma veramente impercettibile lui è connesso alla usb c con adattatore oppure può essere connesso alla usb normale perché lui ha la forma di una normale pennetta usb ma in realtà è un adattatore android auto wireless infatti ora sono connesso con il mio samsung android 14 ad android auto wireless la mia la mia macchina la mia automobile vede come se io fossi collegato via cavo invece sono collegato wireless grazie a lui questo adattatore android auto wireless allora io l'ho provato qualche giorno è stabile non mi ha dato nessun tipo di problema quando salite in auto si collega velocemente quando scendete risalite si ricollega velocemente non ho avuto caduti di linee se anche toccando il cavo o spostandolo non perde la connessione cosa che invece accade a volte con altri adattatori quindi vi posso dire che è un prodotto che funziona bene che non ha difetti però lui funziona solo con android se invece voi avete un iphone vi serve vi serve questo ci sono prodotti come la msx di cui abbiamo visto il video nel mio canale che hanno un prodotto di questa forma anzi più compatta e fanno sia da adattatore android auto wireless che carplay quindi a quel punto dovete voi vedere un attimo quale costa meno se lui android auto wireless costa molto meno delle msx e voi avete un telefono android potete tranquillamente prendere questo ma a parità di prezzo vi consiglio di prendere le msx che a mio parere attualmente è il migliore sul mercato comunque questo adattatore funziona bene ho fatto anche degli aggiornamenti quindi non non mi sento di sconsigliarvelo sconsigliarvelo no funziona proviamo l'assistente vocale previsioni meteo domani a bergamo a bergamo domani ci saranno temporali sparsi con una massima di 26 gradi e una minima di 15 l'assistente vocale funziona android auto funziona come se fossimo connessi via cavo mentre siamo connessi con lui via wireless quindi vi ripeto compratelo l'importante è pagarlo il meno possibile perché a parità di prezzo c'è la msx che fa entrambe le funzioni ed è un po più piccolo ci vediamo presto con un nuovo gadget un nuovo adattatore interessante restate restate connessi e mettete un like se potete